Mi trovo in presenza di Serafino Mendola, che è l'organizzatore del secondo Memorial Giovanni Domenico Marchese, che come saprete è dedicato ai cani, una manifestazione cinofila che è già giunta al secondo anno e acquista molta importanza nell'ambito di questa manifestazione, che ha visto già dall'anno scorso la presenza di centinaia di iscritti, di amanti dei cani e migliaia di visitatori, perché provengono da tutta la Sicilia. Passo la parola a Serafino, l'organizzatore di questa splendida manifestazione, che vi darà qualche comunicazione che vi permetterà di organizzarvi per un'eventuale partecipazione. Allora, io ringrazio tutta l'amministrazione comunale per averci dato questo spazio dove effettuare la mostra e poi volevo concludere che le iscrizioni partiranno dalle 3 di pomeriggio fino alle 5 di pomeriggio e poi inizierà la mostra con l'eventuale premiazione. Una rivederci e a domenica! Anche quest'anno, il 24 e 25 settembre, si organizza la mostra Reptile Fashion, organizzata dal qui presente Andrea Sardo. Passo la parola a lui che vi spiega nei dettagli di che cosa si tratta. Salve a tutti! Appunto, come diceva Peppe, come ogni anno siamo alla non-edizione Reptile Fashion, sempre puntuali a settembre. La novità di quest'anno è un convegno di veterinari che avrà presente 4 dottori specializzati in rettili che delucideranno il mondo affascinante che è di questi animali di cui purtroppo si sa ben poco. L'ingresso è dalle ore 10 alle ore 8 di sera in orario continuato e che per qualsiasi informazione, per iscrizione, come espositori e tutto, troverete maggiori informazioni su www.reptilesfashion.it Vogliamo ricordare che questo qua è l'unica mostra a scambio di rettili che c'è in Sicilia, quindi è l'unico appuntamento dove abbiamo la possibilità di ammirare questi straordinari animali, poterli toccare con mano e perché no pure a acquistarli e farli diventare un animaletto domestico.